eccomi qua per la prima volta che illustro il mio scan laboratorio dove sto lavorando questa tiger devil molto particolare perché uso materiali un po inconsueti il top è in acero con delle fiammature e marezzature così come la tastiera e il top della paletta ma il resto è in robigna ovvero popolarmente detto gagia stagionatissima e ultra vecchia che è una venatura particolare mi piaceva un sacco deciso di adottarla perché bisogna dare il giusto valore al legno non fidarsi da modaioli del cazzo e si usa solo il mogano per fare le chitarre solo lontano perché la fender perché questa gente invasata che hanno anche ragione sotto certe caratteristiche tecniche per carità ma ritengo tutti dei gran pecoroni del cazzo e siccome il mondo è fatto per carità di pecoroni di merda ecco però io in questo caso non mi sento tale potrò potrò non piacere ciò che faccio però io mi sento originale l'originalità non è per tutti questo strumento è in avanzata fase di realizzazione avanzata in fase di realizzazione questo è quanto